Basta con la laboriosa ricerca di prodotti migliori e di vecchi ordinativi. Il nostro nuovo webshop è molto più semplice. Solo pochi click e già avete i prodotti con tutte le informazioni supplementari. Scoprite nuovi prodotti individuali ed inerenti alla vostra attività e fatevi ispirare dalle nostre ricette. Nel settore clienti troverete i vostri dati e gli acquisti delle ultime 42 settimane. Volendo potete anche compilare una lista di preferenze ed inviarla direttamente come ordinativo. Acquistare non è mai stato così semplice e da qualsiasi strumento preferito il cuore dell'acquirente si scioglie con fruneri shop.ch